state così brave così belle e anche i vostri cavalieri sicuramente all'altezza io pensavo di farvi di dedicarvi una canzone direttamente dal protagonista dalla colonna sonora di questa sera ed è la bellissima minuetto cantata da franco califano dedicata a tutte le donne e naturalmente a tutte e cinque le tipologie di more prego andiamo franco che li fanno un incoglito oggi sera mia un'attesa pare all'agonia volta a volta vorrei dirti no ma poi ti vedo e tanto a forza perciò il mio cuore si ribella a te ma il mio corpo no le mani mie che vanno su te e la tua che sono tutto al diangolo e vieni a casa sono sempre parte io lo so e ci sono ma neanche mi vada tutto a tutto e sarà che una notte la 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 lalala la 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 rinnegare è una passione no ma non posso dirti sempre si qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò costa cara la felicità meglio la libertà piuttosto che aspettarti nelle sede per elemosinare amore e vieni a casa e un'altra 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 in divana tutta qui e sarà per una notte la 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 e la vita sta passando subito che ho risonti Io ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu, il resto di una gioventù che ormai non ho più. E continuo sulla stessa via, sempre un triaco di malinconia, non ammetto che la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho cercata, la mia mente non si ferma mai, io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri guarda e vengono, la vita è così, è così. Veramente da pelle d'oca, bellissima, Minuetto, Franco Califano, vieni Franco a prenderti un altro grande applauso meditato perché quest'uomo ha scritto alcune delle canzoni più belle della canzone italiana, veramente. Grazie mille. Allora, tutte le canzoni che noi abbiamo scritto questa sera sono due, molti forse neanche, perché poi la gente è vero che non lo sa. No, ma ci sono tantissime altre che molti non lo sanno perché sono state portate a successo da altri, per cui l'autore è sempre rimasto un po' nascosto e io all'inizio ho voluto rimanere nascosto perché non mi piacereva molto espormi e quindi io scrivevo e basta, gli altri cantavano. Scrivevi sapendo che non le avresti cantate tu, cioè già scrivi pensando di farle cantare ad altri. No, io ho cominciato a cantare, a scrivere per me, c'è la mia libertà, tutto il resto è noia, tutte queste cose qui. Le altre le ho scritte per altri. Senti, Franco, siccome stanno per arrivare altri amici, tali Lille e Greg, e poi ci sono... Ah, innanzitutto, stop al televoto, stop, da questo momento mi dicono, stop al televoto, ecco quindi la tipologia che avete...